La mia unica ambizione è fare bene il parlamentare europeo nelle commissioni che decideremo. C'è una bellissima squadra, stiamo promuovendo dei colleghi molto autorevoli nei livelli chiave o alcuni livelli chiave del funzionamento del Parlamento europeo e credo che dobbiamo essere degni della fiducia che ci hanno dato gli elettori facendo essere il gruppo del PD il primo gruppo del Partito del Socialismo europeo che è la seconda forza europea, quindi ce ne sarà da fare comunque anche facendo il parlamentare. Io penso che la scelta del Movimento 5 Stelle sia assolutamente positiva, io sono molto contento perché questo fa chiarezza sulla collocazione di un campo che in Italia deve riorganizzarsi in fretta, che io sono convinto è maggioritario nel nostro paese e che questa Presidente del Consiglio in Italia è Presidente del Consiglio perché ha una maggioranza parlamentare ma non dimentichiamoci mai è una minoranza degli elettori italiani.